Eccoci qui ragazzi e benvenuti in una nuova puntata. La puntata di oggi è una reaction, andremo a vedere la performance di un batterista veramente fenomenale, il suo nome è Gavin Harrison, non c'è bisogno che vi presenti questo batterista, dedicherò altri video a questo batterista. Sigla e andiamo a vedere il video di oggi. Come sempre ti ricordo di iscriverti al canale, di attivare la campanella per non perderti i contenuti del canale, i nuovi video che usciranno, insomma tutto quello che riguarda il mondo della batteria. Adesso è iniziato anche questo format delle reaction, fammi sapere nei commenti se ti piace e andiamo a vedere il video di oggi. Perfetto ragazzi siamo su youtube, andiamo a cercare la performance in questione su una canzone famosissima che è The Chicken, è una canzone che bene o male tutti i più grandi batteristi hanno suonato, penso anche la performance di Aaron Spears e moltissimi altri nomi, ed è una canzone molto molto caratteristica. E' piccola però è caratteristica, è bella. Pronti. Siamo sempre all'Hetterman Show, come per il video di Tony Royster. And his current CD, I have a copy of it right here, entitled Circles. Ladies and gentlemen, here's Gavin Harrison. Gavin! Guy Gunther 2-1-2-1-1-2-3-2-3-4-2-3-4-3-4-2-7-7-5-8-7-8-7-8-8-8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-9-8. iniziamo già con un assolo io ho perso il tempo ragazzi questo è Einstein della batteria aspetta 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 cosa ha fatto? si è leccato il pollice ha suonato il tome è andato a strisciare la pelle andiamo a vedere che mostro ragazzi no vabbè c'ha un tubo c'ha un tubo probabilmente collegato è un tubo di plastica collegato al foro del timpano del floor tom e lui ci soffia dentro andando non so se soffia o aspira andando a cambiare le note che fa il timpano è impressionante torniamo a guardarla questa cosa perché non si vede io non l'ho mai vista dai doppia cassa ciao non l'ho mai vista ma non l'ho mai vista ma non l'ho mai vista suonata ancora meglio e questo è il Gavin Harrison Show, non è The Chicken, The Chicken la usano solo così ogni tanto unico batterista che vedo usare i pedali sonor, o almeno li usava, non so se li usa ancora questa è la canzone, dopo cinque assoli diverse mamma mia che performance ragazzi spero che il video vi sia piaciuto adesso vedrò se riesco a estrapolare qualcosa se riusciamo andare a rubare qualcosa di bello da Gavin Harrison magari farò un video in cui spiego, non so se è un chop, probabilmente un chop perché sono tutti fill, fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto, se conoscete questo batterista sicuramente sì, per chi non lo conosce vi consiglio caldamente di andarlo a cercare perché è uno dei nomi più importanti nel panorama mondiale, ha registrato veramente con una miriade di artisti, pensate che la cura di Battiato è stata registrata da lui, la batteria che sentite nella cura è sua e mille altre cose che ha fatto Gavin Harrison, veramente un mostro, come sempre ti ricordo di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, di attivare la campanella, detto questo ci vediamo al prossimo video, ciao ciao